Non ci saranno tifosi del Pescara allo Zaccheria di Foggia. La decisione, prevedibile dopo gli ultimi precedenti e dopo il divieto imposto ai tifosi foggiani nella gara d'andata dello scorso settembre, è stata ufficializzata ieri dopo l'ordinanza del prefetto di Foggia che ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi a tutti i residenti della regione Abruzzo, compresi i possessori di Fidelity Card. Allo Zaccheria il Pescara tenterà di rialzarsi dopo la batosta con il Brescia e lo farà quasi certamente con un nuovo assetto tattico. Dalle indicazioni filtrate nel primo allenamento settimanale il tecnico Bepi Pillon ha provato il 4-3-1-2. Marras, favorito, Sottil e Del Sole si contendono il posto da trequartista. Brugman non dovrebbe lasciare quello di regista, specie dopo la serataccia di Canutè che partirà dalla panchina lasciando spazio a Melegoni. Campagnaro e Ciofani sono i principali indiziati a prendere il posto degli squalificati, Del Grosso e Gravion. Con l'inserimento di Ciofani, Balzano solcherà la corsia mancina. Intanto, sempre ieri, il presidente Daniele Sebastiani, come anticipato a TV6 dopo la partita col Brescia, si è recato al Poggio degli Olivi dove ha incontrato squadra e staff tecnico dopo l'allenamento. Un confronto per stimolare la squadra a reagire dopo il tonfo dell'Adriatico. Alle porte ci sono due trasferte contro squadre assetate di punti salvezza, Foggia a punto e poi Crotone. E i biancazzori dovranno far punti per non perdere contatto dalla parte alta della classifica. I satanelli di Pasquale Padalino sono reduci dal pareggio senza gol sul campo della oramai ex capolista Palermo. Una buona prova alla distanza per i rossoneri che hanno anche sfiorato il colpaccio. Una prestazione che ridà fiducia all'ambiente in vista della gara di domenica, come si evince dalle parole dell'allenatore Padalino e del neoportiere Leali. I ragazzi che vanno elogiati per quanto mi riguarda. Poi siamo venuti fuori nel secondo tempo, abbiamo creato diverse occasioni, ci è mancata un po' di precisione, siamo stati a volte anche un po' troppo leggeri. Però sono confortato da una prestazione importante, come dicevo prima, in un campo, in uno stadio importante, dopo una sconfitta in casa contro il Crotone, che aveva riportato un po' di pessimismo all'interno della squadra. Io penso che per la prestazione che c'è stata potevamo vincere, come magari potevamo perdere. Però abbiamo avuto anche noi, nelle nostre occasioni importanti, per poter portare a casa la vittoria su un campo che comunque è difficile, contro in questo momento la seconda della classe, che era prima fino a poco tempo fa. Quindi sicuramente penso una grande prestazione contro una grande squadra.